Il bello del noleggio e-bike di Ferrari Ski Service è avere vari tipi di e-bike MIG, una bici all-mountain molto più maneggevole, pastosa, facile da controllare e una bici e-bike da enduro come la TK01 che è veramente una bestia in discesa con un controllo pazzesco per i veri enduristi che vogliono una spinta in più col motore Shimano EP8